Musica Hey ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Steph E questo gioco è una PewDiePie Simulator E siamo qui con il secondo episodio Il primo vi è piaciuto molto In tanti ci avete chiesto di continuare a fare una serie E siccome a noi è sembrato davvero molto molto carino come gioco Abbiamo deciso di continuarlo Esattamente, non sappiamo quanti episodi ci faremo Potrebbero essere 3, potrebbero essere 4, potrebbero essere 10 Vedremo un pochettino nel tempo Quindi lasciateci tanti likes per il terzo episodio Perché vedremo appunto quanto continuarlo Soprattutto in base al supporto che ci date E vi devo dire un paio di cose Anzi, vi dobbiamo dire un paio di cose Prima di tutto, martedì ci sarà la seconda live Dato che abbiamo raggiunto i 31.000 iscritti Quindi martedì faremo la seconda live E sarà su Minecraft Factions Factions è una modalità di gioco di Minecraft Molto carina Andate a vedervi qualcosina per capire come funziona Vi dico soltanto che potrete giocare e combattere insieme a noi Quindi secondo me sarà una roba molto carina da provare in live Ovviamente la terza live poi sarà su Roblox Però vogliamo provare a fare qualcosa anche su Minecraft Io non vedo l'ora Perché ho visto di cosa si trattano le faction ragazzi E sono fantastiche Oltretutto appunto potrete giocare anche voi E penso che farle tutti assieme sarà davvero epico Esattamente quindi fateci sapere nei commenti se vi piace questa idea Quindi martedì alle 18 quasi sicuramente Comunque creeremo anche questa volta l'evento Ci sarà la prossima live L'altra cosa da dire è che anche questa settimana facciamo il weekend pazzo Quindi oggi escono due video e domani escono sempre due video Ci siamo Hai finito di parlare Ero un rapper Volevi fare capito il monologo Sì 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 Diventare rapper ti stai allenando È perché dobbiamo avvisare i consulini delle cose Visto che non facciamo mai vlog lo diciamo all'inizio di un video No il problema è che avviseremo anche su Facebook Il problema è che non arrivano i post su Facebook Quindi dobbiamo farlo nei video Tutto a posto Comunque iniziamo 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 Allora come potete vedere abbiamo un sacco di views Un sacco di iscritti Semplicemente ogni tanto siamo entrati Non abbiamo fatto nulla Non abbiamo comprato nulla Non abbiamo fatto nulla Abbiamo giusto accumulato un po' di views In modo tale da poter andare un bel po' avanti oggi E magari fare una stanza E di fare shopping pazzo Magari fare una stanza decente Esatto Che stiamo ancora con uno scatolone Cioè ti sembra Stiamo diventando degli youtuber fighissimi Non possiamo stare su uno scatolone Lo so Lo so Infatti hai ragione Allora mettiamo a registrare questo video Dopodiché ce ne andiamo un pochettino nel negozio E decidiamo un po' che cosa fare Secondo me abbiamo bisogno di un cestino Così brutto dici Eh questo c'è Vabbè dai sì 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 Cosa ti devo dire Prendiamolo mettiamolo Allora lo mettiamo qua Sì sì ci sta ci sta Oppure al lato Perché tecnicamente il cestino lo tiene al lato della scrivania No 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 Perché noi facciamo i tiri a canestro Ho capito Ah ecco perché Per passare il tempo E adesso si spiega tutta quella carta in terra Esatto Quindi sì sono d'accordo Allora ci mette 3 minuti e 35 Ma è una cosa che l'altra volta io non avevo notato È che c'è questo giochino Per far passare meno tempo Per ridurre I tempi di spedizione I tempi di spedizione In sostanza Come vedi possiamo giocare O con Maya O con Edgar Ah però costa 20 visualizzazioni Sì costa delle visualizzazioni Ma ti riduce i tempi di spedizione E se sei fortunato E becchi una delle due ciotole in fondo Che ce l'hai fatta Trovi altri premi Vedi in questo caso Hai triplicato quello che hai trovato Poi puoi trovare anche altre cose Tipo dei soldi Capito I soldi da spendere in gioco Bellino Bellissimo È davvero bellissimo Vai vai Io ci ho giocato un sacco di volte Almeno questo l'ho provato Ma che fortuna Cioè non è possibile Io ci ho giocato un sacco di volte Stavo per dire Che l'ho presa solo una volta E tu la prendi tutte e due le volte Ma ragazzi È una fortuna spacciata Sott'eff È una fortuna spacciata Guarda che sto mirando Non mi vedi che sono concentratissimo Allora questa volta Ho preso un sacco di secondi Quindi se va nel per due Io non ho parole Non ho parole ragazzi È una vergogna Comunque praticamente Noi spammiamo questo giochino Sì spegniamo un po' di views Però velocizziamo Di tantissimo le spedizioni Allo stesso tempo Ci divertiamo Dai le views 20 views Non sono poi così tante Quindi diciamo che ci guadagna A giocare a questo gioco La scorsa volta Non l'avevamo notato È vero In effetti è molto carino Diciamo che un modo Per passare il tempo È per non dover Spendere i soldi del gioco Per accelerare la spedizione Quindi è fantastico Esattamente Allora guarda Guarda questo Vai Maya Vai Maya Il tiro d'oro Guardalo Forza Maya Vedi In questo caso Hai trovato Quattro soldi del gioco Che Chiamiamoli Come si chiamavano Non mi ricordo più Soldoni 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 hai ragione Quindi quattro soldoni Allora Stai arrivando 5 secondi Quindi ormai è arrivato Così ci avviciniamo A livello 3 Non so quanta exp ci darà Ma credo che pagherà Abbastanza bene Eccolo qua Guarda che bello Bellino Uh ha pagato bene Sì 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 dai Siamo vicini a livello 3 Non manca molto dai Allora prendiamo Per qualcosa Così facciamo livello Facciamo Che ci prendiamo una piantina Per far vedere Che comunque ci tiene A mancare l'ambiente Sì 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 Qua bellina Da ossigeno alla stanza Capito Brava brava Mi hai capito subito Prende la stanza Un posto accogliente Anche se poi Stai perdendo a pezzi Non importa 3 minuti e 50 Dobbiamo aspettare Un sacco di tempo Questa sì Sì ma non schivarmeli tutti Dai almeno qualcuno No Ma è tanto Sarebbe stato un per due Con zero Uffa Allora Forza 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 Edgar Stavolta il turno di Edgar Dai Forza 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 Due secondi Ce lo facciamo Tre secondi Dai per due No 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 Non è andata Mi sta arrabbiando Guardate un po' qua Abbiamo completato La seconda missione Importantissima Ci dà due punti cerebroidi 45 iscritti E due Soldoni Quindi 5000 visualizzazioni Completato Non male per un novellino Non è questo granché Ma non è male Ascolta Sono tantissimi Quindi non ci rompere Allora la prossima Allora la prossima è Acquista cinque oggetti Di tendenza Ok Dopodiché Di quelle più semplici Abbiamo sali di livello Una volta Che lo stiamo per fare Un oggetto di tendenza Perfetto Che lo possiamo acquistare Esatto E visita cinque stanze Che anche questo È facilissimo Che poi probabilmente La pianta Veniva considerata Come oggetto di tendenza Te lo ricordi Perché potrebbe contare Anche questo Per la missione Potrebbe essere Bravo Non ci stavo pensando Potrebbe essere Sali di tendenza Sicuramente non mi ricordo Vedremo Allora ok Piantina Ritorna alla stanza Vedi sì Non è di tendenza Sì 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 Lo vedo sotto 15 punti Più 3 soldoni Possiamo spendere un sacco Di punti cerebroidi Non ricordo mai i nomi Perché sono davvero complicati Ho caldo Ho caldo Aspetta Ho caldo Come è caldo È perché ho la sciarpa Allora Sali di livello una volta Fatto E acquista Un oggetto di tendenza Fatto Vedi vedi Ricordavo bene Che infatti la pianta Fosse negli oggetti di tendenza Visita 5 stanze Purtroppo non funziona All'online Quindi questa missione Dovremmo lasciarla perdere Purtroppo sì Purtroppo sì Stanno avendo qualche problemino In questo episodio ragazzi Volevamo visitare Le stanze dei consolini Perché ci arriva la notifica Che ci aggiungono appunto Tra gli amici Ma non li possiamo accettare Perché non possiamo collegare L'account Spero che lo risolvano presto Così nel prossimo episodio Aggiungeteci 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 Tantissimi Ok Perché così visiteremo Le vostre stanze Esattamente Allora adesso Vediamo un pochettino Cosa abbiamo sbloccato Oh bella Bella 1930 ma è bellissima Il gattino Abbiamo sbloccato il gattino Dov'è? Finalmente lì Guardalo E guarda questa cosa Questo pupazzetto Che carino Gattino Gattino 1600 views Però aiuto Ma ci vuole anche il cuscino Per il gattino Mettilo nella scrivania allora Se non abbiamo il cuscino Per il gattino Sì mi piace Qui sopra Sì esatto Perché il gatto Tanto lo sai che se non ha una cuccia Si mette per forza A fianco nella scrivania Sappiamo benissimo Che i gatti 10 minuti e 40 secondi Oh no Questo Questo Questo? Sì 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 Ok Vedi questi sono gli sfondi che abbiamo Questi sono quelli gratis Mentre invece quelli li paghi Io voglio questo Carino Sì 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 Ma che Ah qua ha cambiato Ok A cosa pensavi scusami No no Lascia perdere Lascia perdere Stavo Un popaccio Stavo pensando Ad altre cose Allora visto che abbiamo Tanto tempo da aspettare Spendiamo un pochettino Di punti Ho notato che nei commenti Ci hanno consigliato Di portare al massimo Lo streaming Perché praticamente così Tu non fai video E anche quando sei offline Fai un sacco di visualizzazioni Quindi diciamo Che portato al massimo I consolini hanno già capito Che ci piace guadagnare Senza fare nulla Vedi Non direste Filaggini Che non è vero E ti dicevo Quindi portato al massimo Sono proprio detto Che frutta Davvero E infatti Portato al massimo Perfetto Finalmente Arrivato il gattino Come lo chiamiamo Ci ha dato anche un bel po' Di esperienze Guarda Guarda la categoria animale Quanto l'abbiamo livellata Perché costando tanto Evidentemente Dà molta esperienza In quella categoria Ricompensa 10 Wow Bello Possiamo spendere altri bei punti Bello 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 Allora Qua trattieni Trasmetti Ottieni visualizzazioni Non girando alcun video 100% Ok Ci compriamo questo Assolutamente sì E lo possiamo anche ricomprare Vai Perfetto 50% in più Teoricamente dovrebbe essere bellissimo Guarda Lo apre anche gli occhietti Ma l'hai visto È certo È certo Si sveglio Si sveglia Dorme e si sveglia Micio Allora Ciao Come lo chiamiamo Dobbiamo dargli un nome bellissimo Sherlock Va bene Ci sta troppo bene Perché è nero Così Sherlock Lo voglio chiamare Bellino 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 Ok Qualcosa in tendenza Make up Va bene Facciamo video di make up Bravo Ti ci vorrei vedere Facendo video di make up Non succederà mai Manca poco per la spedizione Nel mentre che stavamo lì A addormentarci Da aspettare Stavamo controllando un pochettino Praticamente Vedete Noi abbiamo 108 follower Quindi 108 persone Hanno provato a mandarci La richiesta di amicizia Anche io te l'ho mandata Guarda questa è la mia No Questa sono io che ti ho seguito Le richieste Io non le posso accettare Proprio non ci sono Perché appunto Questa funzione Sta avendo dei problemi Però Se voi mi scrivete I vostri nomi Nei commenti Io posso aggiungervi E in automatico Non vi aggiungo agli amici Perché appunto Non funziona Ma vi metto il follow Mettendovi il follow Posso almeno visitarvi Quindi adesso vediamo Fede e Niki Ciao sono io E ho fatto ancora poche cose Sapete perché? Perché Steph mi ha costretto A non giocarci Finché non avessimo Registrato il secondo video Perché noi dobbiamo vedere Le cose C'è cattivo Per la prima volta Assieme ai consolini Io volevo giocare senza di te però Eh antipatica Però dai Io ho redato la stanza Con le prime cose Che avevo Quindi è semplicissima Giustamente Comunque sì Quindi scriveteci i nomi Così vi aggiungiamo E nel prossimo episodio Se ancora non funzionerà L'online Ne avremo comunque La possibilità di aggiungere Le stanze Vi aggiungerò anche io Col mio account Perché sono curiosissima Non ci riesce a nessuno Sì li voglio vedere Comunque questo è il nome di Feri Niki Quindi aggiungete anche a lei Aggiungete a me Aggiungete anche a lei Scrivete appunto nei commenti I nomi Così nel prossimo video Se ancora non funziona Vi visitiamo noi In questo modo E ci divertiremo A vedere tutte le vostre stante Sì sarà divertentissimo Non vedo l'ora Non vedo l'ora Non vedo l'ora Allora Eccoci qua Finalmente è arrivata la spedizione Un bellissimo poster Comunque abbiamo deciso Che il canale lo faremo Di scienza E di musica Quindi combineremo Queste due cose Qualcosina di gaming Ovviamente in mezzo La mettiamo sempre Semplicemente perché Sono più belle le decorazioni Di musica e di scienza E poi ci piacciono un sacco Come cose Quindi Soprattutto Diciamo che prendiamo Dieci piccioni con una fava Beh tanto si è già capito Che ci piace il gaming Almeno facciamo vedere Che ci piacciono anche altre cose Giustamente Ho sbagliato No E vabbè dai Triplichiamo la nostra ricompensa E ci vediamo Una bella pubblicità Ok 1963 Dovrebbero bastare Siamo anche a 845 iscritti Siamo vicini Ai mille Allora 80 views Gentilissimo Sì Finalmente Deve ce la mettiamo Tipo qua Sì Sì Mi piace È bella Comunque se notate Per quelli che notano Di più dettagli Abbiamo spostato un pochettino Tutto La piantina messa qua All'angolino Abbiamo centrato un pochettino Di più a scrivania Dopo che abbiamo comprato tutto Certo E messo il gatto sopra lo scatolone Che fa troppo ridere lì dietro Guarda Se il mio gatto Dormirebbe lì Se gli mettessi una cuccia Dormirebbe comunque Sopra lo scatolone Quindi secondo me È più realistico così Infatti corrito io C'è una scatola Che abbiamo conservato Solo perché ci va dentro il gatto Ma dimmi te Che tu gli compri le cose Più comode a questi gatti E loro vanno negli scatoloni Sono fatti così E io così li apprezzo Comunque ci fermiamo così Per questo video ragazzi Mi raccomando Fateci sapere se vi è piaciuto Lasciateci tutti i vostri nomi Nei commenti Così vi potremo visitare Nel prossimo episodio Speriamo che risolvano Il problema dell'online Nel prima possibile Esatto Perché ci divertiremo un sacco A fare quelle cose E niente Ci fermiamo così Bene ragazzi Vi riesco così Se ci stasciateci un bel like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao ciao Ciao